Il cinema è un nuovo sviluppo, un nuovo modello di sviluppo economico? Assolutamente sì, io sono direttore del Benevoltore da poco tempo e sono convinto di dover utilizzare ogni mio minuto di questa direzione, non so quanto durerà, per cercare di valorizzare tutto quello che noi abbiamo. Sicuramente la Sicilia come location cinematografica, come polo di attrazione, non solo il turismo, ma un turismo qualificato, un turismo professionale, è assolutamente da privilegiare, è una regione che merita questo e sicuramente ci impegneremo per aumentare il livello culturale in Sicilia. Il cinema può diventare un nuovo modello di sviluppo per la Sicilia?